Ciao, sono Andrea Poggi, mi sono laureata all'Università dell'Insubria in Fisioterapia. Oggi mi occupo di riabilitazione in ambito ortopedico sportivo. Grazie ai docenti che lungo il corso di laurea mi hanno insegnato ad approfondire gli argomenti, ho capito che in fisioterapia non si smette mai di studiare e imparare. Grazie ai tutor che mi hanno fatto provare con mano le tecniche, ho imparato a fare una corretta valutazione e trattamento del paziente. L'Università ha fatto sì che la mia passione si trasformasse in lavoro, tanto che oggi, a 33 anni, sono titolare di Physioactive, una realtà che vanta ben due studi nelle province di Milano e Monzebrianza.